allora c'è stato un avvicendamento perché a un certo punto io mi aspettavo che non ci venisse più a trovare però alla fine è sbarcato qui da noi anche Keito Pablo Canestrini buonasera Keito buonasera a tutti alla fine ti sei fatto aspettare però come tutte le star chiedo scusa ma lunedì è una giornata un po' convulsa figli e cose varie comunque ce l'ho fatta no e mi fa piacere che tu ci sei anche per dare un punto di vista differente perché poi abbiamo analizzato tutto quello che è successo ad Udine però con te posso avere un parere addirittura a 360 gradi perché poi tu ragazzo di colore che però hai vissuto anche il mondo delle curve dal di dentro perché poi tu negli anni 90 negli anni 2000 hai fatto parte della curva della Lazio tu eri un membro degli irriducibili poi ci siamo sentiti in privato tu non ti definisci non ti definisci un ex Ultras tu sei ancora un Ultras della Lazio non si smette mai di esserlo non si smette mai di esserlo Ultras vuoi andare più o meno allo stadio io ci vado pochissimo quasi mai ma insomma sì non smetti lo sei sì perché poi quando tu ti riconosci in un movimento chiaramente quello poi ti accompagna soprattutto negli anni di gioventù però è una cosa che senti dal di dentro io la prima domanda che ti faccio comincerei proprio da qui perché poi come ti sei avvicinato tu al mondo Ultra e alla curva della Lazio perché poi la curva della Lazio soprattutto negli anni che l'hai frequentata te era non poco belligerante a determinate dinamiche perché poi non erano lo possiamo chiaramente dire accettati se vogliamo ragazzi di colore tant'è che poi certe cose si sono ripercosse anche su Aaron Winter che era un giocatore della Lazio che la curva non accolse proprio benissimo sia perché era di colore sia perché era di religione ebraica quindi prego raccontaci insomma quello che è stato il tuo percorso come sei entrato in questo mondo e poi come hai vissuto l'altra faccia della medaglia da persona che inevitabilmente essendo di colore qualche insulto razziale l'ha anche subito nella vita di tutti i giorni allora andiamo per ordine dunque il mio approccio con la curva data in realtà del 1989 Flaminio e già insomma sì non è stato diciamo un approccio facilissimo che si può sapere perché ovviamente erano tempi un po' un po' tosti e poi ho continuato 90-91 con qualche qualche amico e in realtà poi sono stato diciamo felicitato facilitato dal fatto che come tanti altri di Posità Lazio ho fatto anche politica attiva e questo ha favorito diciamo così la la mia entrata diciamo lo ssocratamento ufficiale la mia entrata in curva e all'inizio c'erano qualche perplessità e poi invece mano a mano c'era c'era anche tanta curiosità perché c'era gente che era molto curiosa perché volevano capire perché chiaramente insomma all'epoca c'ero solo io adesso da quello che mi raccontano credo che sia leggermente cambiata in meglio ma non è che siamo poi così tanti e poi mano a mano sempre negli anni continuando a frequentare diciamo quelli che erano i gruppi di di all'epoca c'erano i lucibili c'erano gli ultras alla fine sono riuscito anche a essere cofondatore di un gruppo mio che si chiamava anni 70 che comunque ha fatto una bella storia e niente quindi insomma è stata una bellissima esperienza sia inizio non facile poi invece alla fine ero conosciuto da tutti rispettato è anche è anche temuto perché poi la stazza è quella che è quindi poi beh ormai è passato qualche annetto gli allenamenti le panche non le faccio più da pochino però diciamo che non mi sono fatto mai parlare dietro all'epoca diciamo così insomma quando c'era da andiamo a dire sempre quando c'era da schierarsi ce ne sono state insomma di partitelle interessanti ero sempre uno che stava in prima fila con immaginate i dovuti accorgimenti per evitare perché insomma essendo abbastanza riconoscibile rispetto a utilizzare qualche scamodaggio in più diciamo così ti posso definire il Cass Pennant romano perché poi sappiamo allora me l'hanno detto spiegiamolo magari a chi a chi non lo conosce Cass Pennant era un capo ultra del West Ham che praticamente si impose nella curva degli Hammers che era di colore in una curva praticamente all'epoca tutta composta da bianchi sì sì beh lui è stato un po' una leggenda ho letto anche il suo libro interessante ho letto comunque anche per esempio il libro del capo del Chelsea quello io sono tifoso del Millwall per esempio d'Inghilterra Enrico Millwall e Everton da sempre ci sono diciamo adesso si trovano prima era un po' più difficile hanno fatto questi ex ex capi storici Uligas perché poi erano quelli che facevano l'English Army ai mondiali si sono hanno scritto delle autobiografie ovviamente non è che hanno scritto loro si fanno insomma il livello diciamo intellettuale non è il massimo forse Cassperland sì perché non ne ha scritto solo uno di libro forse lui sì esatto però anche altri li hanno scritti anche di diciamo di ferm minori che in realtà sono quelle più interessanti perché sono le città un po' sticare tipo Nottingham Birmingham che invece c'erano dei gruppi veramente veramente interessanti adesso si trova è bello insomma è un bel ambiente mi sono molto divertito ci sono degli aneddoti particolari abbiamo una sorpresa ce l'abbiamo te lo volevo chiedere ma tu mi leggi nel pensiero ormai siamo simbiotici Tommy aspetta un attimo soltanto che lo condivido subito eccolo qua abbiamo una sorpresa per te Keito si dovrebbe sentire guarda io penso assolutamente che il discorso dell'unulato contro il giocatore di colore sia un insulto verso il giocatore non ha nulla di rassista è un insulto verso il giocatore giocatore di pallone non uomo anche perché credo sia un po' difficile e 15.000 persone possano insultare tranquillamente e fare uscita dello stadio o in settimana le vedo parlare tranquillamente con gente come me penso sia questo che anni sono questi 90 no 99 sì perché era in realtà dopo era prima dell'anno della coppa delle coppe però era mi sa che quella partita non so se addirittura fosse la semifinale di ritorno di coppa Italia col Milan quella che poi vincemmo 3 a 1 e e all'andata perdemo 1 a 0 con un gol di UEA che ce lo fece proprio in faccia cioè stavo là ma quella era la finale la finale del 97 98 credo che poi questo sia l'anno dopo perché l'anno dopo c'è stata noi vincendo quella siamo andati in coppa delle coppe no? sì 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 perché poi all'interno delle interviste ho sentito che si parlava che la Lazio avesse già vinto la coppa delle coppe quindi sì allora era la 99 capire stiamo a parlare di svariati anni fa infatti avevo tutti i baffi pure neri figurati no ma tra le altre cose tu hai in quel frangente hai detto un concetto molto importante che ritieni che poi l'unulato razzista l'insulto razzista sia più come posso dire un insulto legato alla partita diciamo non gogliardia ma comunque per schernire il giocatore piuttosto che altro perché poi comunque tu hai classificato quello come il classico insulto da stadio come può essere quando si insulta un bianco anche se poi prima in tua non presenza stavamo parlando che magari altri la vedono in maniera completamente diversa però magari tu hai quella visione lì perché hai vissuto le dinamiche di curve e quindi riesci però la domanda che ti faccio io non so se è una domanda scomoda puoi rispondermi o non rispondermi però sentendo tutte quante le domeniche corri razzisti unulati razzisti cioè c'era una parte di te che era infastidita anche da questo questo mi sembra chiaro allora cerco di spiegare meglio quello che diciamo il concetto che dicevo nel filmato ci sono bisogna distingere due cose perché adesso si parla tanto di B all'epoca mia non era il B c'era proprio l'U.U.U quindi il B è un'altra cosa il B lo fai pure a teatro e non quindi quello non è neanche un insulto il B l'U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U chi se l'ha inventato l'abbiamo pure discorso all'epoca e mi chiese cosa ne pensassi io gli dissi guarda se è un discorso puramente sportivo che tu vai a mirare quello perché in quel momento l'avversario tuo cioè quel giocatore che poi dall'altro magari si spera che sia anche un giocatore forte tu gli fai questo perché è il concetto di ti vado a provocare ti vado a insultare un'altra cosa che io ho sentito spesso mi è capitato di sentire all'epoca e ti posso assicurare che poi in realtà nella dinamica della curva poi succedevano altre cose quando tu senti proprio in realtà l'insulto razzista quindi quando si inizia a parlare di nego di merda cose così qui e scusa un attimo Tommy su Twitch non si vabbè lo vai passato no Keito magari non è abituato a Twitch purtroppo purtroppo lo dico anche se è contestualizzato ovviamente ne stiamo parlando stiamo facendo cronaca in questa piattaforma purtroppo non è possibile utilizzare ah scusate figurati 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 cioè chiedo stop da giornalista scusate non ci ho pensato no perché ricordiamo che Keito poi è anche giornalista oltre tutto infatti non ci ho pensato non ci ho pensato quindi chiedo scusa ripiro no no ma diciamo che l'insulto ma quando c'è quel tipo l'insulto ben preciso è una cosa e non è che non era tutta una curva che lo faceva per esempio potevano essere qualche elemento ben definito e devo dire che spesso e volentieri si distinguevano proprio loro da altri personaggi che potevano essere invece molto più numerosi che potevano fare U o i V ma non c'entra poco molto poco con con un discorso diciamo di razzismo tour in quanto tale in quel caso tu individui il il giocatore di colore perché nasce sostanzialmente in realtà un inizio di fondo di razzismo c'è là perché tu partono si parte dal presupposto che dice allora è di colore quindi la situazione è l'U è il verso della scimmia ok parliamoci chiaro è questo questo è come nasce quel colore non so se Fabiano da giocatore ti vuole replicare perché io sono stato giocatore però eh anche a livello quindi cioè l'ho vissuta sullo stadio l'ho vissuta dentro il campo quindi se Fabiano vuole replicare non so che cosa vuole replicare però per me no lo so non lo so no no ci mancherebbe altro no a me replicare sai cosa c'è da replicare cioè non riesco a capire come si possa condividere o capire un insulto razzista che sia dare dello zingaro a un giocatore in campo che sia fare il quello è il verso della scimmia quello puoi fare bu però dico quello è quindi stai dando della scimmia a un giocatore in campo e io pensando ma neanche che ci fossi io perché io ho saputo reagire ma se ci fosse mia figlia a una recita se ci fosse mio figlio in una squadra e mi vedo 10.000 persone 5.000 persone che gli fanno u u u sicuramente da genitore da genitore anche due da genitore ti dico che mi sembra un po' un ostiat a riuscire a dire di poter tollerare questa cosa perché è un insulto ma io dico era così bello negli anni tuoi si facevano i cori si facevano le canzoni si facevano gli striscioli c'erano degli sfottoti in Italia erano belli erano bellissimi ma perché non fate quelli cioè perché non fare quelli invece del fare il verso e la scimmia a una persona e il colore perché quello è e quello rimane cioè usate la fantasia no ma guarda io a parte io tra l'altro personalmente per questo non l'ho mai fatto perché ti puoi ben immaginare che se cioè farlo io sarebbe stato fare a essere un po' tragicomica però io non ho mai detto che condivido che ho condiviso ho accettato ho detto non è non è sempre non è sempre stato a un certo punto un solo esclusivamente un discorso di razzismo tu mi dici c'è ragione perché si parla lo fanno sulla giornata di colore perché allora se devi insultare uno con la bella e bianca non avete con la bella e bianca gli dicono di tutt'altro sempre quindi io infatti ho trovato stupido tipo quando all'Inter gli hanno vietato di portare i fischietti per fischiare cioè quella è una cosa stupida allora vedi che siamo d'accordo perché comunque poi il problema di fondo è che questo che è un discorso serio bisogna vedere anche come affrontarlo per esempio quel discorso dell'Inter è ipocrita è ipocrisia pura è ipocrisia io voglio soltanto intervenire sulla cosa degli ululati comunque io ho detto il fattore storico comunque ricordiamoci che ai inizi del novecento comunque molti persone di colore o nere come volete dire voi venivano messe dentro dei circhi quindi utilizzati come degli animali quindi pure quella cosa lì forse quelle persone che lo fanno non lo sanno ha un valore storico comunque quegli ululati pure capite io che è vero ma c'è ragione ma c'è ragione ma c'è è finita 60 anni fa non 2000 anni fa 1000 anni fa cioè sparavano alla gente c'erano se andavi in Sudafrica c'erano i pullman dei bianchi con lo spazio dei neri cioè stiamo parlando di una cosa che è ancora fresca e che è per quello che rimane molto più sentita perché sono cent'anni che ci si sta dietro a questo di più probabilmente non so neanche perché a livello di storia faccio schifo però c'è il razzismo la schiavitù cioè io io tipo vengo dal Brasile vengo dal Brasile dove praticamente mia mamma è nerissima e mio papà è italiano è bianchissimo e le persone nere erano andate tutte al nord quindi tu quando vai nel nord del Brasile lo conosco benissimo lo so perché appena finita la schiavitù io sarei curioso di sapere perché Keito è andato in Brasile no puro turismo no però lui dice una cosa giusta tra l'altro tutti e due miei amici molto simpatici dicono due cose giuste considerate io mi sono laureato in scienze politiche con una teoria sperimentale sulla in storia dell'Africa sulla schiavitù quindi quando parliamo di questi argomenti potremmo stare qua anche 48 ore cioè magari qualche cosa penso di saperne è la quello che che dicevi te adesso è giustissimo non sono 100 sono 450 anni che c'è questa questa storia se parliamo partendo proprio dalla schiavitù perché la schiavitù nasce dal razzismo puro quello è cioè è quello che le divisioni sociali che tu mi citavi appunto il Sudafrica vabbè tra l'altro ci stanno ancora adesso non è cambiato molto proprio Mandela è tutto una grande facciata ma appunto parlando del Brasile tu che sei etro brasiliano sai benissimo appunto tutti quelli scuri sono andati al nord tutti i brasiliani scuri provengono dall'Africa dalla Guinea dal Seneca dal Brinca che è il mio paese d'origine e anche lì tuttora c'è per esempio c'è una grandissima forma di razzismo tra i brasiliani niri di pelle scura e quelli bianchi e l'ho proprio visto io quindi cioè il discorso di razzismo è veramente molto molto complesso e molto pericare se si parla però di un discorso da stadio io non giustifico nulla do il mio esempio di quello che io ho visto in prima persona invece vede prima c'erano gli striccioni le cose i canti i cori tutto tutto bello tutto vero secondo me erano pure meglio quelli di prima di quelli di adesso sinceramente però va contestualizzato in un contesto ben preciso cioè lo stadio specialmente le curve è non è una frase fatta è un luogo dove comunque volente o nolente le persone oltre a tifare la propria squadra che dovrebbe essere la cosa principale danno principalmente sfogo ai propri istinti più vicini però ti posso dire una cosa che all'epodemia molti che facevano questi cose in realtà manco ci credevano cioè non sapevano bravissimi anche ma tuttora guarda mi parlava Francesco ieri perché ho letto non ho seguito questo episodio di Mignon però posso immaginare quello che è successo posso dire che la cosa che in realtà secondo me è abbastanza tragicomica è che su 5.000 persone di una curva 10.000 mettiamo parte un coro quelli che sono veramente convinti di fare di farlo per fare l'insulto è un quinto il resto segue segue perché è una moda e non sa manco perché lo fa certo però si ritorna al discorso che ho fatto prima per me l'ignoranza non può essere tollerata adesso adesso ce l'hai gli strumenti un minimo non dico un minimo per informarti e sapere quello che stai facendo un minimo quindi no la domanda che ti dico io però fai bisogna partire nel mondo c'è anche tanta gente ignorante che lo sarà per sempre quello si non sto dicendo che adesso l'artismo parte via qualcuno ci sarà sempre però si può anche sfoltire un pochino possiamo appena appena l'atmosfera perché c'è una persona in pre-live che mi ha scritto anche su whatsapp quindi lo facciamo entrare Francesco lo vedevo a metà purtroppo abbiamo questa abbiamo questa situazione purtroppo eccolo qua eccolo qua fresco vincitore della Supercoppa l'Inter che conquista la sua ottava Supercoppa italiana salvo però non stavamo parlando dell'Inter stavamo parlando di una tematica che innanzitutto saluto tutti ciao ragazzi ciao piacere ciao ciao Keito gli altri li conosco mi dispiace per il capitolo dell'Inter per Fabiano ma vabbè si scherza questo è lo spirito che ci piace però Salvatore visto che ci stavi seguendo in pre-live prego aggiungi qualcosa anche te poi io volevo fare anche una domanda a Keito inerente quel periodo storico lì della curva della Lazio prego Salvatore e poi andiamo da tutti gli altri no stavo seguendo per quanto concerne comunque il discorso sul razzismo vi stavo seguendo e stavo ascoltando ma io sinceramente per quanto riguarda il razzismo in università mi sono occupato ho fatto un po' di esami è un razzismo diverso ma è un razzismo che praticamente condanna non il colore della pelle ma la propria identità religiosa io vivendo qui in UK in Scozia ho dovuto studiare questi fatti e quindi come per esempio c'è la differenza c'è stata e sempre ci sarà purtroppo fra cattolici e protestanti è un'altra forma di razzismo questa qua non è per il razzismo della pelle però sono discorsi molto interessanti che poi praticamente formano dei popoli perché il calcio è un è un veicolo importantissimo se non il più importante lo sport più seguito sicuramente in tutto il mondo però la società soprattutto qui in UK in Scozia si è formata tantissimo sul calcio e quindi questa scissione fra cattolici e protestanti ha formato poi praticamente il pensiero dei rangers e il pensiero del Celtic che sono immigrati dal nord d'Irlanda quindi vi stavo seguendo approssimatamente e sinceramente i discorsi sul razzismo nel calcio soprattutto per quanto concerne i giocatori oppure cosa devono fare immagino che tutto sia iniziato per la querelle d'armian scusate al magnano udinese io mi ricordo nel 2006 io sono nato in una città in Sicilia che si chiama Messina io mi ricordo un Messina Inter quando i tifosi dell'Inter io tifo Inter praticamente hanno insultato il capitano del Messina non so se vi ricordate Zorò 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 e io mi ricordo che ero più piccolo fu un caso plateale se ne parlò tantissimo se non vado errato Salvo fu proprio il primo fu proprio il primo giocatore in Italia seguito da Boateng da Balotelli da Gullibali da Lucas fu Zorò in un Messina Inter del 2005 2006 Messina che poi arrivò settimo in campionato a un punto dalla Coppa UEFA dal Palermo il Palermo di Toni insomma era un grande periodo florido per il calcio italiano io mi ricordo a Messina allo stadio San Filippo Messina Inter poi Messina vinse 2 a 1 quella partita ma lui se ne andò dal campo perché sentì questi cori che purtroppo ancora esistono si parlava del 2006 adesso siamo al 2024 e purtroppo ancora esistono ma il problema è che le persone preposte ovvero gli organi preposti affinché bloccare il tutto non fanno abbastanza io credo che il DASPO non serva più nel senso serve per bloccare quei quattro inetti che hanno fatto quei cori a Magnano o altre persone però per avere un segnale forte secondo me ci deve essere una non dico neanche una sconfitta a tavolino però uno stadio a forti chiuse per un bel po' perché purtroppo bisogna capire che questi atteggiamenti non possono essere tollerati qui io e che per fortuna io vivo qui da otto anni lavoro qui non esistono queste cose oppure se esistono sono dei casi però mi avevi parlato questo me l'hai detto privatamente quindi mi permetto di interpellarti magari sono state superate le barriere per quanto riguarda le persone di colore però mi hai sempre raccontato che c'è molto razzismo nei confronti degli italiani degli italiani no no qualcosa mi avevi detto forse mi sono sbagliato forse fuori dallo stadio però fuori dallo stadio pure no no secondo me vabbè comunque per quanto riguarda Inghilterra Italia la finale degli europei nel 2021 lì c'è stato diciamo un caso non ci sono stati molti casi non non belli che poi per fortuna si sono risolti con Daspo ai tifosi no guarda la Scozia sotto questo punto di vista è un paese che ha 5 milioni e mezzo di abitanti e la maggior parte sono tutti protestanti quindi essendo protestanti tifano tutti i rangers e si identificano con i rangers e il motto dei rangers è we are the people cioè noi siamo le persone e gli altri non siete praticamente nulla che va d'altro canto a cozzare con la filosofia del del Celtic che sono protestanti perché scusate cattolici perché sono nati nel 1888 da padre Wilfried quindi non ci risperdiamo devo dire che c'è razzismo devo dire che esiste il razzismo qui però dal punto di vista religioso non dal punto di vista della pelle diciamo che sono due tutto molto chiaro tutto molto chiaro io poi invito tutti i osti e anche con questa finalità per educare un mio pubblico sperando che stiamo offrendo uno spettacolo interessante no io torno da Keito perché poi riferendomi a quel periodo storico che lui frequentava la curva ci fu anche un episodio che Sergio Cragniotti aveva praticamente tesserato per la Lazio Lilian Turam era praticamente un acquisto fatto perché poi conosciamo tutti i rapporti che c'erano tra lui e Calisto Tanzi Turam aveva praticamente mancava solo la firma con la Lazio solo che poi lui rifiutò di andare di vestirsi di bianco celeste perché poi proprio perché la curva nord era orientata per quanto riguarda un determinato peso politico anche se poi perché bisogna anche essere onesti poi tu hai frequentato gli irriducibili in quel periodo andò una delegazione di capi ultras della nord a trattare con lui gli hanno anche detto Lilian non ci sono problemi tu puoi stare con noi non ti facciamo nessun coro e alla fine però lui non volle venire perché comunque aveva identificato la curva della Lazio come una curva di estrema destra guarda ti posso raccontare me lo ricordo benissimo ti posso raccontare un aneddoto che di quella delegazione che conosco bene i componenti in realtà dovevo far parte pure io pensa e non ho non ho potuto perché avevo altri impegni proprio me l'hanno me l'hanno proprio chiesto come persone per rafforzare diciamo il concetto che evidentemente insomma non è che la situazione fosse proprio così così grave parliamo degli anni 2000 perché era più grave qualche decennio prima se vogliamo insomma io non ricordo bene conosco le focce insomma ricordo tutto non ci sono potuto andare non so quanto avrei potuto spostare la sua decisione poi io durammo l'ho incontrato anni dopo in un'occasione diversa insomma di lavoro mio come giornalista e parlavamo proprio di questa cosa guarda che sai che ci siamo ci siamo mancati per poco perché non mi vuoi dire so che hai detto queste cose ma guarda che non è esattamente così fu insomma una bella bella ghiacchierata parliamo due ore su questa cosa qua purtroppo aveva già smesso magari l'avrei anche convinto a distanza di anni ti do la colpa di non avere influito pensa che coppia difensiva sarebbe stata commessa per una serie di circostanze non ci sono potuto andare a Parma però l'avrei fatto volentieri ti ripeto anni dopo ho avuto il piacere di parlare con lui che oltre a essere un fortissimo giocatore anche una persona di una grandissima cultura dell'intelligenza e alla fine diciamo che siamo riusciti a trovare un compromesso facciamolo così che se ci fosse andata probabilmente sarebbe pure venuto Alassio infatti mi è stato un grande oggetto di rammarico no proprio che lui non è venuto e magari venisse però sì chiaramente all'epoca la percezione di quello che era la curva di Alassio ma non è solo quella di Alassio perché se vogliamo parlare insomma riconosco insomma le varie riposerie quella del Verona anche in parte un po' abbiamo l'amico Salvatore che è dell'Inter insomma la curva dell'Inter si sa benissimo Ascoli Ascoli pure San Benedetto del Tronto guardavo recentemente delle cose ho scoperto che pure c'è una parte della riposire del Palermo cioè le curve in Milani Massimo a un certo punto almeno una frangia politicamente da una parte o dall'altra si sono schierate sono sempre state schierate chi più chi meno chi in maniera più gradante chi in maniera meno gradante l'episodio di Zorocca e Scirà me lo ricordo molto bene benissimo ricordo fu il primo Boateng è già avvenuto dopo era contro la spalla in amichevole tra l'altro la propatria e gli tirò pure il pallone ed era durante la pausa invernale la pausa la pausa si fecero un amichevole pensate alla propatria si stava con la satta infatti ha smesso di giocare guarda che aspetta no sai qual è il problema il corlo salvatore diceva no bisognerebbe dare un esempio serio allora il DASPO non serve no non serve perché il DASPO casomai non fa altro che creare cioè moltiplicare la cosa perché per 10 che tu vai a diffidare ce ne stanno altri 20 che ti rifanno la stessa cosa e più delle volte ti ripeto neanche sapendo alcune cose un problema di di gestione di questa cosa c'è il momento in cui per esempio quando è accaduto con l'Inter se non mi ricordo male a Coulibaly e lui ferma ferma mi ricordo ferma la palla e viene espulso a Coulibaly allora lì tu hai creato il cortocircuito hai creato la defensa perfetta 2018 Inter Napoli 1 a 0 gol all'ultimo di Lautaro la stavo guardando quella partita e il momento in cui lui si ferma per protestare e viene espulso lui il il messaggio che dà in questo caso l'arbitro però è comunque in questo caso tutta la federazione del gioco cascio è è totalmente un cortocircuito perché l'effetto quale è stato che allora lui non viene espulso per un fallo da gioco viene espulso perché manifesta una protesta a giustificare su una cosa quindi blocca il pallone come hanno fatto lui viene espulso con tutti i giocatori anche della squadra avversaria che lo hanno a colsolare ok e io mi ricordo bene perché poi ho molti amici che conosco bene la curva interessa che gli rurali sono partiti ancora di più allora il il concetto di diciamo secondo me di educazione mettiamola così di educazione alla civiltà perché parliamo di questo non è che cioè a rispetto del prossimo parte molto alla lontana in questo caso specifico si bisognerebbe partire dalle scuole cose però questa è tutta tutta teoria o tu blocchi la partita e e purtroppo dai dei punti di penalità questo lo dico comunque da Ultras e quindi c'è un danno reale alla squadra perché se tu dici ma io su questo sono d'accordo con te perché fino a che diffidi il campo non frega niente a nessuno però inizia a dare i punti di penalizzazione guarda guarda all'epoca non ce ne fregava niente non non era non era non è che che mi danneggi non non mi e soprattutto non imparo niente ammesso e non concesso che devo o voglio imparare quello invece parlando con i due amici abbronzati come me che facevano un discorso sensato bisogna bisogna capire se uno se uno vuole imparare no perché magari c'è quello eh diciamo ignorante e poi c'è quello che è ignorante che ignora cioè che non sa non sa la storia sa eh tutta una serie di cose e va per emulazione no la maggior parte di questi sono così poi come in tutte le situazioni purtroppo e non è solo lo stadio il razzismo esiste e non è che verrà sconfitto così perché io vi potrei citare mille esempi quotidiani no di ehm di 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 cose razziste che io ho vissuto eh da piccolo adesso ovviamente ho le spalle larghe quindi è è tutto un'altra una domanda te la faccio io ricollegandomi a questo perché poi con Fabiano magari ne abbiamo già parlato mi stava dicendo delle sue avventure addirittura da bambino nel nel mondo del calcio però eh parlavamo di educazione delle scuole no no sei stato anche tu eh ragazzino perché parlavamo eventualmente di educazione nelle scuole ma quando tu eri ragazzino a scuola credo che poi soprattutto stiamo parlando eh de anni settanta perché tu sei anni settanta due settanta o ottanta sì certo non c'era ancora una cultura eh dove erano presenti tanti ragazzi di colore quindi no quindi questo per certi versi in quel determinato periodo storico può averti penalizzato perché qualcuno vedeva il diverso no allora non è che qualcuno lo vedeva lo vedevano in molti io ehm ho giocato diciamo nelle regioni della Lazio tra tanti anni però come adesso magari non tutti lo sanno ma magari tu sì che a Roma per esempio le squadre tante squadre sono affiliate no quindi eh a volte vai vai a giocare in posti pazzeschi io andavo dal centro storico di Roma andavo accompagnando mia madre a Montesacro che che per banto così e chi non è di Roma ma c'è scusa adesso viene quasi considerato centro storico ormai Roma è tutto il centro storico all'epoca non è che stiamo parlando magari di di San Basilio eh beh è là eh era là di fronte cioè era Talenti quindi c'era Talenti San Basilio e poi dopo c'erano le Capre cioè X Sut Leones ok io andavo alle tarmi là ed ero l'unico ragazzo di origine africana ehm con i miei compagni di di squadra che erano tutta gente semplice compreso il buon Daniele Franceschini che ha fatto una grande carriera nel mio bellissimo amico e io non ho avuto problemi i problemi ce li ho avuti quando eh la domenica quando andavamo a giocare contro le altre squadre la contro in campo succedeva non so se anche all'amico succedeva cioè ti dicevano di tutto lo facevano anche per provocarti però c'era lì non era il nazismo era proprio più cattiveria no? cioè giocavano su quella cosa per cercare di 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 nervosirti il problema invece come non è cambiato adesso erano i genitori no? i genitori che sono quelli che dalla diciamo alla tribuna e dalle cose lì partivano gli esserti più pesanti quando tu hai 8-10-12 anni che non hai comunque chiaramente una struttura per per contestualizzare la cosa e fartela anche scivolare può può essere può essere particolarmente pesanti le senti certe cose le senti dentro poi continui a giocare ma le senti perché chiaramente vieni ferito no? perché ti colpiscono su una cosa che tra l'altro poi tu non riesci neanche a capire perché fondamentalmente eh quello che succede è che tutti la reazione prima parlavo all'altro amico quando diceva no ma è normale che uno reagisca certo che è normale perché eh tutto il processo di elaborazione del pensiero che noi facciamo adesso quando tu stai in campo e comunque ti senti aiutato tu non riesci non 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 riesci neanche a capire perché accade questo ok? perché obiettivamente accade solo con una certa categoria quindi andiamo a sentire anche Fabiano e Kaiser se vogliono aggiungere qualcosa perché il concetto di Keito è abbastanza chiaro poi insomma abbiamo sentito tutti quanti Kaiser e Kaiser questa diretta ha parlato poco voglio sentire ulteriormente anche lui perché che idea si è fatto dopo tutto questo dibattito collettivo che abbiamo fatto in merito ma no io credo che abbia già detto tutto Keito l'unica cosa che non condivido è quella relativa al DASPO cioè secondo me serve secondo me è il provvedimento da prendere che poi può portare la gente a dire anche se voglio farlo anche se sono stupido e sono in quella direzione chiamiamola sociale sbagliata non lo faccio perché poi non vado più allo stadio quindi credo che e anche i dirigenti dell'Udinese hanno detto proprio che se dovessero capire quali sono le persone che hanno fatto e hanno detto frasi razziste a Magnan li manderebbero via per sempre magari per sempre è una cosa abbastanza esagerata un paio sono stati identificati però Kaiser è uscito un comunicato dalla polizia di Udine sono stati identificati un paio lui ieri ha detto così il dirigente dell'Udinese ma non credo che avverrà perché comunque è rare umano certo ok anche se stiamo parlando di una situazione abbastanza grave però quando tu cominci a dare due anni tre anni quattro anni uno ci pensa anche chi magari è vicino a te dice non lo faccio perché voglio voglio continuare a venire allo stadio per una stupidata del genere espormi così e poi non venire più allo stadio perché comunque sia tifare la propria squadra stare con con gli amici è sempre una situazione eh quotidiana piacevole sociale quindi io credo che il DASPO due tre anni di squalifica sia sia una pena giusta e secondo me aiuta proprio ad andare verso la la fine del non dico la fine totale del razzismo ma quantomeno induce la gente a pensarci dieci volte il razzismo magari non finisce però magari responsabilizzi quegli individui perché poi di fronte a una pena esemplare ci pensano e non e non fanno quello che magari hanno sempre fatto Fabiano no beh io stavo volevo parlare più sui casi cioè i casi poi parliamo di Napoli in Inter Fabiano ne abbiamo già parlato poi andiamo anche agli aspetti calcistici perché su questo ne abbiamo parlato abbondantemente chi vuole rimanere rimanga anche per quanto riguarda gli aspetti calcistici ci mancherebbe altro e dicevo tra ragazzini è normale che si vada a colpire sulle diversità sulle cose è una cosa che capita e capiterà sempre sempre il problema è l'educazione che poi deve dare il padre quando magari sente il figlio che fa una strozzata cioè il problema sta tutto lì perché è normale che noi notiamo una diversità siamo tutti diversi e sicuramente noi abbiamo un altro colore come ce l'hanno i cinesi come per un cinese quello bianco ha un altro colore quindi e però è come si va ad educare sul rapporto che bisogna avere cioè che deve essere un rapporto comunque sia normale quindi anche i bambini io tipo mi sono ritrovato a spiegare a mia figlia che non è che può dire no quella cinese detto in una maniera che è gialla e no ma è una cosa normale che un ragazzino che un bimbo ti vada a far capire le diversità a parlarti delle diversità in quella maniera è il genitore che deve riuscire ad educare ovviamente negli stadi non c'è più nulla da educare perché oramai sono belli che grandi però quando si è ragazzi là ci dovrebbe essere molto più molto più senso civico perché è da lì che poi sono quelli che poi crescono sbagliando che poi vanno negli stadi e fanno i versi e le scive no poi io chiudo dicendo anche un'ultima cosa questo parlo di una mia esperienza personale perché poi tra il 2008 e il 2009 ho vissuto negli Stati Uniti lì il discorso è completamente diverso nel senso che c'è una folta comunità nera io poi a Miami c'è un quartiere denominato Washington frequentato principalmente da neri e io vi dico la verità lì invece c'è l'effetto contrario perché se tu sei bianco ti vedono proprio come un alieno e io infatti un giorno quando mi ricordo ancora alla discoteca ero andato al cameo con un mio amico colombiano e con un altro mio amico francese di colore che studiavano con me e vedevo tutti gli occhi puntati addosso mi sentivo io il diverso quindi cioè posso capire avendo vissuto quella dinamica per un giorno quello che avete vissuto voi per una vita sei muto Fabiano sei muto Fabiano eh infatti non si sente lui lo smuto lo smuto ma perché secondo me Fabiano vuole parlare di Napoli Inter deve smutare lui deve smutare lui il salvatore sta premendo Fabiano vuole parlare di Napoli Inter no dicevo e figurati cioè pensa a noi che l'abbiamo vissuto tutta una vita cioè tutta una vita questo tipo di diversità io ogni tanto lo raccontavo anche mia moglie mia moglie napoletana occhi azzurri e bionda e ogni tanto gli raccontavo tutti gli episodi no? gli spiegavo gli andavo a raccontare gli episodi cioè di di come la stende un ragazzino questa diversità e ridendo e scherzando gli ho detto guarda io utilizzavo per disegnarmi all'asilo e usavo il pastello che gli altri usavano per l'albero e quindi c'è è normale che uno già vede già è diverso capito? vabbè succede anche con le motte di Whatsapp che magari uno guarda no no succede quindi usavo questo questa cosa spiritosa per far capire che comunque un ragazzino anche se poi viene trattato normalmente anche se di colore la sente questa diversità è una cosa che accusa anche personalmente perché comunque sei l'unico ragazzino almeno per quanto è successo a me ero l'unico nell'arco di 20-30 chilometri quindi a scuola eravamo solo io e mia sorella all'asilo solo io e mia sorella e quindi quando si doveva usare un parolaccia è normale che mi arrivava io l'ho sconfitta perché andavo e andavo faccia a faccia eppure se ero piccolino ero bassino magrolino non mi importava l'ho sfruttata in questa maniera ho cresciuto sicuramente il mio interiore in questo modo però ci sono tanti ragazzi che non riescono e poi magari ci stanno male e al primo bu razzista in campo scoppiano è normale la squadra prima avevate nominato la propatria io quando sono andato nella mia prima squadra professionistica che ero il Como e nelle giovanili del Como prima di andare al Como ero stato notato e mi volevano prendere subito quelli della propatria sapete che è stato bloccato l'acquisto era stato bloccato perché i tifosi non volevano neanche i ragazzini delle giovanili di colore quindi io sono cresciuto in quel tipo di mentalità e non è semplice per un ragazzo che ti porti dietro tanti episodi durante la vita vai a giocare una partita giochi una partita sereno si tranquillo e poi ti senti quello che ti fa il verso e la scimmia che te lo fanno anche e ti sale il veleno ne ho sopportate di O ma hanno lanciato perché io ne ho viste di O il lancio della pipì nella bottiglietta i sputi le ho prese tutte però ti dico la verità ogni volta che facevano quel verso della scimmia era una cosa che comunque ti rimaneva dentro quindi è per questo che capisco maignan e però non vado a capire chi dice ah però era solo un insulto era solo per insultare ma non è razzista dico sì non saranno razzisti te lo metto per iscritto che ce ne sono pochi il discorso che ha fatto Keito è giusto in realtà di razzismo vero vero e puro in Italia ce n'è poco nelle curte ce n'è poco bravo sicuramente probabilmente in quella della Lazio qualcosina in più si può alzare però dico alla fine avete trovato un compromesso vedi però allora come voglio togliere questo compromesso ti dico non c'è razzismo però se non se non se non fobia ce n'è se non fobia ce n'è razzismo no però se non fobia c'è per carità io la giustifico pure per certi vesti però la se non fobia c'è ma secondo me come ho detto prima non sono gesti da fare devono essere puniti tutti quelli che li fanno ma senza fare le pubblicità cartello della FIFA e stronzate esatto esatto però lo spot della FIFA piace con tutti quanti fa il mail guarda è quanto con Messi e Cristiano Ronaldo che fanno Messi Cristiano Ronaldo cose però non è che mi metti che ne so ma un altro falli tutti è ipocrisia io sono d'accordissimo quello che ha detto Fabiano perché abbiamo vissuto esattamente le stesse cose quindi quello che raccontava lui sostanzialmente le stesse cose che ho vissuto io forse qualche anno prima perché mi sa che sono un po' più vecchiotto di lui però è quello quando lui dice giustamente io mi sono fatto una corazza pure io ho fatto la stessa una corazza e ti riesce io ho due figlie per esempio che sono mulatte ovviamente allora già cioè loro questo problema non se lo pongono grazie a Dio in parte un po' la società è migliorata anche per i bambini vanno nella scuola pubblica non succedono cose strane però è ovvio che scatta diciamo un istinto di protezione paterna su questo aspetto mentre magari su altri sono molto più sportivi rispetto al classico padre italiano mezzo ciclo chiamato dove siciliano non è che sono il padre Yoshi è bohemi vicino però voglio dire quello che dice lui è giustissimo perché uno si crea una corazza e te la fai fai tutta una serie di cose a un certo punto diciamo che te la c'è anche scivolare addosso tutta una serie di cose quando arriva a quello perché scattano tutti perché quello va a toccare proprio la parte più intima dell'uomo cioè va senta dentro ma lo dico pure io nel senso che non è una cosa cioè non è che quando li facevano questi corsi io diciamo era indifferente no non ero indifferente mi bevevo quattro borghetti più volevo che si poteva e cercavo d'altronde però è altrettanto vero che poi gli stessi che facevano questi corsi con me non erano ipocriti erano cioè andavano a prendere la birra in altre situazioni mi hanno dato una mano cioè mi hanno salvato proprio in certe situazioni quindi c'è c'è un po' un quando si parla diciamo di questa cosa allo stadio è è un po' non mi posso dire un po' secondo me un po' una specie dei maionese un po' strano perché tu devi distinguere tra quella cosa là e veramente poi chi la fa e perché il razzismo come dicevano in Italia è facile o xenofobia sì ci sta ma insomma l'esempio suo è che non è potuto andare alla propria perché sostanzialmente hanno chiamato in società gli ultras hanno detto noi non manco ma manco negli allievi in primavera lo vogliamo è lì allora è un certo tipo di discorso allora andiamo ai discorsi calcistici no io ve lo so stanno aggiungendo l'ultima cosa però una rodine non fa vabbè non mi ricordo la cosa primavera primavera sì ecco la mia ignoranza quello che voglio dire è che pure io ero molto è troppo tempo che stai in Francia stai dimenticando l'Italia bravissimo pure io ero molto simpatico con dei relativi di persone però dopo con altre persone nella mia stessa etnia si comparto in un'altra maniera quindi c'è pure da fare questo distinco perché a me ne ho conosciute di gente che guardavano altire facevano la cosa e con me invece erano super simpatici perché io sono una persona amata diciamo da un certo punto di vista quindi chiamiamo anche tutti noi qui sul canale sul web in generale mitologico leggenda del web in generale Grazie.